Cosa posso fare in questo caso? Se lei mi fa arrivare l'orecchio, il credito datevi che io adesso devo entrare dentro l'orecchio posso prendere l'orecchio, massaggiarlo, vedete lei cosa fa? Massaggiarlo un po' e siccome c'ha i moscerini nell'orecchio con il pollice vado a fare questo, verso l'esterno, è qualcosa che entra ma poi dopo se ne va, entra e poi dopo se ne va è una cosa che sentano il sollievo ma non il fastidio e adesso cosa voglio? Non mi basta questo, voglio che abbassi la testa mettete la mano, prendete un po' di pressione dietro la nuca con la mano e aspettate che lei abbassi la testa eccolo qua